Sei una persona molto precisa e hai un occhio per i dettagli? Hai un'anima intraprendente e apprezzi la qualità? Mostri impegno nel tuo lavoro? Abbiamo il lavoro perfetto per te. Diventa consulente alla clientela presso un'Agenzia Generale Zürich. Ti stai chiedendo il perché? La risposta è semplice. Stiamo cercando persone appassionate e ambiziose per la consulenza. Non importa che tu sia più o meno giovane, che tu abbia esperienza o sia esordiente. Offriamo un lavoro estremamente flessibile con grandi opportunità di crescita. Vogliamo infatti che diventi un'esperta o un esperto di assicurazioni di prim'ordine e che sia in grado di offrire alla tua clientela la migliore consulenza possibile. Forse stiamo cercando proprio te, una persona che ama il contatto con la clientela, dotata di un pensiero interdisciplinare, in grado di organizzarsi in autonomia e a cui piace viaggiare. Se ti piace interagire con le persone, se per te è importante creare relazioni di lunga durata basate sulla fiducia e non perdi mai il piacere nel farlo, allora sei nel posto giusto. Siamo davvero desiderosi di conoscerti. Candidati ora come consulente alla clientela.